Nel piazzale di San Giovanni e a Portoferraio sono presenti da un po' di tempo dei materiali di risulta dell'edilizia scaricati insieme a rifiuti vari, trasformando così un'area che dovrebbe essere panoramica, oltre che già un bivacco per camper, in una discarica. È questo l'allarme lanciato da legambiente arcipelago toscano. In effetti il cumulo di rifiuti abbandonato a San Giovanni è impressionante e visto che rifiuto chiama rifiuto, abuso chiama abuso e sporcaccioni gli sporcaccioni, il cumulo sembra essere rimpinguato da continui scarichi di rifiuti vari, il tutto di fronte al magnifico panorama di cosmopoli e in un'area che da tempo legambiente chiede che, insieme all'area delle terme e alle saline e alle prade, vada a formare una zona speciale di conservazione da includere nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Siamo di fronte all'ennesimo sfregio al nostro territorio, al nostro ambiente e alla nostra storia perpetrati dai vandali che per tornaconto economico deturpano la nostra isola mettendo a rischio bellezza ed economia. Lega Ambiente chiede al comune di Portoferraio un pronto intervento e alle forze dell'ordine di individuare e punire severamente, dove fa più male il portafoglio, chi si è reso colpevole di questo nuovo scempio a San Giovanni.